La zona è un poco lasciata andare, ci sentiamo strani. Penso che c'è troppo irregolari qua. Troppi irregolari? Sì, c'è troppo persone qua, non vogliono andare a collegi. Noi abbiamo quattro bambini qua, noi adesso penso che i bambini si crescere così, in vicino loro non vanno con legge. Si sopravvive, non si vive. Questo è un posto molto abbandonato, zona di spaccio, zona di prostituzione. Ho assistito a violenze proprio in questo incrocio. Alcuni africani che erano purtroppo esaltati, che avevano fumato sicuramente, hanno aggredito dei ragazzi, ragazzi minorenni. Qualcuno circolava e l'abbiamo visto con coltello in mano. Vedi quelle panchine là? Sono piene di extracomunitari. Per aspettare il cliente che viene per acquistare droga. Alle spalle di questa abitazione, la polizia municipale venne per un controllo. Entrarono dentro e trovarono addirittura 700 grammi di eroina. Iniziano a spaccare vetri, bottiglie, tolgono pali per le strade. Ci sono parecchie di queste qua che vanno in incandescenza e sono costrette al TSO. Al trattamento sanitario obbligatorio. Quanti ne fate più o meno al mese qua? Ma adesso anche una quindicina al mese. Questa è una delle tante case qui abbandonate che sono state occupate negli anni. Qui ci sono i materassi. Qui c'è il totale degrado, abbandono. Infatti c'è un odore. Abbiamo trovato un ragazzo che poi abbiamo chiamato il 118 che l'hanno trasportato in ospedale. Stava in overdose questo. Addirittura abbiamo trovato un ragazzo che era morto da tre mesi. In stato di decomposizione. Abbiamo trovato un ragazzo che era morto da tre mesi.